Come da una realtà di falsità uno vede o preferisce la verità, Rav dice perché poco a poco ci avviciniamo di più gli uni agli altri, noi leggiamo articoli, materiali su d'azione, amore, connessione e tutto questo ci influenza e allora cominciamo a comprendere in che misura noi siamo in opposizione a questo stato corretto. E qui c'è una domanda, se è che realmente stiamo avanzando perché ci continuano a correggere oppure ci deviamo da questo stato? Ci sono quelli che poco a poco si deviano, lasciano, vanno lasciando via, loro sentono che questo è un lavoro duro e vedono che bisogna investire tempo, lavoro e così è come loro concludono la loro vita.